Davvero un video piacevole, divertente, straordinario e pieno di ironia quello che ha voluto pubblicare su Facebook il famoso attore italiano Carlo Verdone un video in cui interpreta probabilmente uno dei personaggi più celebri da lui creato che è nella fattispecie concreta il personaggio di Furio il marito di Magda, colui che in qualche modo è sempre molto cavilloso nei confronti della tra virgolette moglie piacevolissimo dunque il personaggio in questione che in occasione delle festività natalizie decide di fare gli auguri a tutti noi utenti di Facebook e internauti del web e con le frasi il panettone d'ora ha comprato Magda e il pandoro ha preso quello zucchero perutato ecco che Carlo Verdone fa gli auguri di Buon Natale a tutti noi utenti del grande web complimenti dunque a Carlo Verdone, straordinario attore e regista romano doc come me sono felice di essere un romano come lui, doc verace perché amo questa città che mi ha dato Natale amo Carlo Verdone come uomo per quanto riguarda il suo ruolo di grandissimo attore e regista quale? e soprattutto i film che con il passare del tempo è riuscito a creare tra Viaggi di Nossi, tra per l'appunto Grandi, Grossi e Verdone e tantissimi altri perle miliari del cinema all'italiana grazie, il video termina qua da Leandro è tutto e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti